Quando è difficile leccare i gelati? Sta bollente la parte Che torne sono Perché che non piace leccare i gelati? A me non piacciono i gelati, Wally Ah ok No, cioè, non leco i gelati Perché non piacciono i gelati? Oh boh Mi piacciono i dolci Ho scegato lo zabaione perché lo fa la tipa lì Che del bar per tali soddisfazione Ho scegato anche il tiramisu Perché lo fa abbastanza amaro Amaro non mi distrago Buone tiramisu amaro Chi cerco? Però per dirvi la Le altre torte di pruni E di amaretti che fanno lì Ma mi passano davanti C'è la Silvia e la Maria che sono Marte Cuoco non ne frega un cazzo Cuoco come me E vuole mangiare delle costate Anche il pesce Perché lui arriva da Lavorava a Sapori Come si chiama? Un ristorante che c'è qua a Piacenza In cui prima Ma lui ha iniziato dove si faceva il pesce Ed è bravissimo anche a fare il pesce L'altro giorno ha fatto il polipo Con le patate per dire Come vogliamo trovarcela? A cazzo duro Non lo so Non lo so È vecchio comunque Non lo so Jade Come vedi tu? Perché non mi si vede i discord nelle cose? Nel gioco Questo personaggio è lungo eh? Ehm Lo Sceridan Lo Sceridan Lo Sceridan Mi piace la leggera Lo Sceridan è quello che si mischia insieme Tipo un baby Ne vedevo molto al bar Che ragazzo c'è proprio un problema Per me il nome di un attore a scegliere Ah il boccione Ah il boccione lo Sceridan è vero? Sì sì È diviso in due Vieni vieni Se no è bianco e nero è vero No devo essere Sono morto Puoi venire? Sì Nevermind C'è una tank qua da me C'è una tank qua da me Scendi giù È il loco quello tank O quello che è Vieni giù Che ti dovrebbe stare Ti posso? Ho una voce bassissima Ah ok Sì brava vieni da noi se puoi Metti il drone virus Minchia un HP sta Il cosa sta un HP? Infatti tutti tutti Bravi Devo alzare la voce Ho abbassato la voce Falco il buto Ce n'è un altro Un altro team Ok Ma sei fai Cosa cazzo sta succedendo? Ho regalato Ho regalato Da dietro Da dietro Mi devo curare Siete da soli ragazzi Dai è uno Ci credo però mi devo curare E' composto da due Due punti Siete da sinistra Quanto ci ha Lo scelgo Ma non lo do E' una bottiglia E' una bottiglia unica però E' ha un separatore all'interno Ragazzi Ragazzi io Gioco per il rest Capito? Non vi è andò a negare che eravamo un po' nella merda in quella situa Ti posso arrestare Jade? No no mi hanno finita tanto Che falle Vi craft a turbine Eh siamo partiti un po' così Sono arrivati altri team quindi Sono Sei operativo Al top Sempre al top il nostro virus To the top never stop Vi craft a turbine raga Se sopravvivo La mia Se sopravvivo Se sopravvivo Wiii Che bello il evento Che palla Posso prendere il ban? No Posso fare un cazzo E' molto difficile che stiamo facendo Mori merdaccia Povero Marvin Ah ci sono troppe robe da lottare no? Ah non posso non lottare Non posso non lottare Cos'è questo? Blow down Ma è lungo E' alto Revenant? Non lo sapevo fosse così alto Non lo sapevo fosse così alto Porco il Buddha incatenato dietro di me Ah Ah vabbè Un'arma senza un mirino Incredibile Non è dubbio Virus guarda i cosi Vai Wally sei tutti dove? Tu che guardi i vini eh Il bevande No lo Sheridan Lo Sheridan che era E' un liquore Ma adesso non so che Non è neanche alto come Come Ah ecco il Il Ballantin com'è? Ballantin 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 Cioè E' fortissimo Io che non l'ho bevuto Ancora anni anni E' un'altra roba che non va più Ma però Porco il Buddha C'è una Valkyria Che vuole Cagare il cazzo Sai che mi viene Lo Z Ehm Mi resto qua ragazzi Faccio la pazzia L'assenzio L'assenzio è più forte la benzina credo Ho bevuto anche i colori Mi piacerebbe Fare la barman A me piacerebbe diventare un cuoco Vedi se lo metto a volte nel caffè shakerato Si Tutti Pronti ragazzuoli? Entrambi a base di caffè Ci sono quali cosi per Per Si ci sono ci sono Io ci sono E no 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 Ci sono questi Che vi servono per gli scudi eh E poi ci sono delle armi in giro Fate voi Fate voi Fate voi Non è che ci muoio qua Jade Jade Dove sei? Sono qua sono qua Ah Perché? Nooo T'ho sentito spari Chi era? Io ho un'arma E non hai paura di usarla No No Vieni Jade vieni un atto Dov'è? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Mi cambio l'armor mentre sono in ulti Funziona? Si C'è un altro qua Fuck Andiamo via Andiamo via Dobbiamo muoverci adesso Jade Prima che Chiude la safe Sì Deve posso causarvi qua non, non, non via, via, via dove vi posso restare? qui? proprio lì, raga siete pronti? per round 2 round 2, sei pronti? jade? e dove è il barius? sono da solo, sto parlando da solo siete pronti ragazzi, round 2 eh? sono pronto, round 2 esatto volete la mia arma? no, che vi devo dare prendi gli ingredienti e poi te lo faccio jade? ogni volta si fa sentire perché sei vive quella porca della loba prendetevi questo raga, prendetevi questo che succede? ah andiamo qua fottetevi di quelli dietro, fottetevene anzi dobbiamo aspettarli qua tip qualcuno deve venire c'è un pacco assistenza là c'è un team là venite qua tipo? tipo vengo lì? si, tipo veni qua tipo, tipo tapo un po' dalla loba vengo dalla loba dalla loba si ah ma c'è una lestarla se volete è buono senza, senza, tu non sai mirare giusto? cioè tu non sai, vabbè io non devo mirare ecco prendilo, prendilo io prendo, io ne prendo un altro un altro, un altro sì, però questo bullizzo territoriale ecco ricordi l'ultima volta che hai bevuto quasi due bottiglie di vino? loba, se hai la ulti, usala ma sono io loba esatto se hai la ulti, usa no, non ce l'ho perché racconti quelle cose? qui c'è qualcosa per voi dai, ti stanno vetando, eh prendetevi questi prendetevi questo si, prendilo, prendilo senza mirare non devi mirare con l'Lestar si stanno vetendo là gli ultimi team, raga dovete venire con me venite, venite, venite venite a me l'ultima squadra stanno vessando qua su di me ce n'è un altro tipo lì ce la possiamo fare ne ho quasi fatto uno ok, manca l'ultimo non miro, non miro, non miro gg visto non ci credevo vi ho rezzato due volte è andata così vabbè abbiamo vinto da quant'è che noi vincevamo virus da quanti secoli no, vabbè gg 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 jade 666 danni ha fatto jade eh il famoso numero quanti hai fatti? 666 bello poi in che modo l'ha detto bello si sto per attivare un piano diabolico ha 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 diabolico